Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Traffico al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla 1 in direzione Bologna sono chiuse per lavori le corsie di sinistra tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Sulla statale Trebis-Tiberina, a seguito del sequestro preventivo del viadotto Puleto nel comune di Pieve-Santo Stefano, chiuso in entrambe le direzioni il tratto tra Canili e Valsavignone. Sulla regionale 69 di Valdarno, senso unico alternato all'altezza del chilometro 26 nel comune di Figline-Incisa. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Buon viaggio!